Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video con le uscite fumettistiche da marzo 2019. Per Baopublishing uscirà Stranger in Paradise 25 di Terry Moore, 216 pagine, al costo di 20 euro. La saga di Stranger in Paradise è una tra le più importanti del fumetto indipendente Made in USA e io l'ho adorata particolarmente. A 25 anni dall'inizio della serie originale, l'autore Terry Moore si domanda che fine hanno fatto Cacciu, Francine, David e tutti gli altri personaggi? La risposta è questo nuovo volume, imperdibile per i fan del cartoonist texano. Per l'eccezionalità dell'evento, l'edizione di questa storia, autoconclusiva e inedita, ma che funge da sequel alle storie classiche, sarà cartonata. Poi uscirà Umberto di Oldenaccio, 168 pagine a colori, 18 euro. Umberto è un comune corriere impegnato nel solito trantran lavorativo, se non fosse per un piccolo particolare. È un alieno di Urano. Insieme a un gruppo di ragazzini umani, si troverà costretto a combattere contro la malvagia multinazionale che scredita gli alieni agli occhi degli umani, mentre ruba le risorse del gigante gassoso. Una commedia dal sapore anni Ottanta, con lo spirito di avventura di Stranger Things e The Goonies e con una critica alla politica moderna. Poi Sfera, di Albi Longo, 192 pagine a colore al costo di 20 euro. Albi Longo è un piccolo fenomeno dell'underground fumettistico torinese. Autore giovanissimo, ma di profonda intelligenza narrativa. Alla sua seconda prova propone una storia sul senso effimero della celebrità nel mondo dell'arte. Un giovane scopre di avere il potere di creare sfere opache e solide, che qualcuno crede essere opere d'arte moderna. Deciso a cavalcare l'improvvisa e in attesa fama che le sue creazioni li portano, finirà per capire qualcosa di molto e molto importante su ciò che vuole veramente. Per Oblomove Edizioni usciranno il sesto Dalai Lama di Zhao Zhe e Ku Qiang, 128 pagine a colori al costo di 20 euro. Tawang, Tibet del Sud, 1782. L'Ozban Rinchen vive con i genitori in un piccolo villaggio ai piedi dell'Himalaya. Una mattina, mentre torna dai campi insieme a Jelai, la sua piccola volpe, conosce Maki Ame, figlia del capovillaggio. Nasce subito una profonda amicizia, alla quale si unisce Dedi, la confidente di Maki Ame. Poco dopo, però, giunge la notizia della morte del quinto Dalai Lama e i monaci devono partire per setacciare il paese alla ricerca di un successore. Durante la ricerca arriverà Natta Wang, sconvolgendo la quotidianità dei tre giovani amici. In una lunga graphic novel in tre volumi, Zhao Zhe racconta l'affascinante vita di Sun Yang Giazzo, l'unico Dalai Lama laico tra l'amore per Maki Ame e il suo destino religioso, mentre sullo sfondo scorrono i conflitti politici e la guerra tra il Tibet e la Mongolia. Poi, Aqua Atlantic di Giorgio Carpinteri, al costo di 20 euro per 56 pagine a colori. Atlantide esiste. Tra i suoi abitanti, un comico di successo interpreta il terrestre contemporaneo. La comunità che applaude è espressione di un'umanità originaria pura e felice, che convive con i fratelli di superficie, grazie a una condizione, essere considerati un mito, non reali. Cosa succederebbe se il personaggio si impossessasse dell'attore che lo interpreta? Come apparirebbe ai suoi occhi quel paradiso di tartarughe sapienti e persone amorevoli? Calarsi troppo nella parte sarà il principio dei suoi guai e metterà a rischio l'intera comunità. Poi, il dio vagabondo di Fabrizio Dori, al costo di 25 euro per 160 pagine a colori, un senza tetto attirasse folle di fedeli. In cambio di una bottiglia di vino o mezzo grammo di hashish, racconta storie che fanno passare la tristezza e risolvono problemi. Eustis non è però un santone qualunque, è un satiro e possiede realmente il dono della profezia. Nei tempi antichi apparteneva alla corte errante di Dioniso, ma un giorno si perse. Le cose però stanno per cambiare, gli dei forse non sono veramente scomparsi. Per ritrovarli Eustis dovrà però affrontare la sua personale odissea ai confini di una moderna metropoli. Per Nicola Pesce Editore uscirà Non Sferatu di Paolo Donofrio, 80 pagine al costo di 19,90 euro, considerato il capolavoro del regista tedesco Frederick William Murnaud, nonché uno dei capisaldi del cinema horror e espressionista, Non Sferatu il Vampiro è ispirato liberamente al romanzo Dracula di Bram Stoker. Murnaud dovette modificare il titolo e i nomi dei personaggi. Il conte Dracula diventa il conte Orlok, interpretato da Max Schreck, per problemi legati ai diritti legali dell'opera. Uno straordinario cartonato a fumetti stampato in color seppia, che riprende il film originale del 1922 fotogramma per fotogramma. Per Panini Comics usciranno Il cuore delle Amazzoni di Christian Rossi e Geraldine Bindi, 160 pagine a colori al costo di 38 euro. Comincia tutto con una sfida, Achille il semidio contro Pantasilea la regina delle Amazzoni. Christian Rossi e Geraldine Bindi narrano sotto una nuova luce i miti delle Amazzoni, donando loro la veste epica di Una guerra dei sessi, il tutto racchiuso in un elegante e pregiato volume. Per edizioni BD uscirà Belzebubbs di J.B. A. Onen, un volume unico di 128 pagine al costo di 12 euro. State per conoscere la più estrema band metal della storia, i Belzebubbs, e l'adorabile, ma altrettanto metal, famiglia del suo frontman. Tra nonnine adoratrici di Cthulhu, teneri primi amori conditi da riti di sangue, e disavventure quotidiane a ritmi indiavolati, questa webserie preveniente come il metal più estremo del resto, dalla Finlandia, è già pubblicata in Stati Uniti, di Spagna e Francia, è davvero irresistibile. E queste erano le uscite a fumetti da marzo 2019. Fatemi sapere qui sotto con un commento la vostra wishlist, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, e seguitemi sui vari social come Instagram, dove giornalmente posto qualcosa riguardo i fumetti che leggo, e non solo. Aprite il box informazioni per tutte le info utili su come aiutare il canale. Noi ci vediamo alla prossima, e ciao! Noi ci vediamo alla prossima,